ecco l'esempio del senso civico del cittadino med italiano che sfrutta la tecnologia per incolare il suo vicino di casa un esempio di senso civico veramente altissimo abbiamo abilità dimostrata nel pulire la nevicata record degli ultimi trent'anni ecco vediamo sembrare su una rossa cazza la randa il mulinello pescare la potenza della macchina a servizio dell'uomo come vedete questa è un'operazione che avrebbe richiesto almeno una decina di addetti ai lavori ma con questo marchi ingegno diabolico è possibile abbastanza velocemente ripulire da mezzo metro di neve una lampa un cortile abbastanza ampio allo stesso tempo buttando tutta la neve nel cortile del vicino reo di averci fatto qualche dispetto in passato quindi noi ci comportiamo così andiamo a passo di romata ma comunque prima o poi ce la faremo grazie a tutti